Tentato furto in abitazione con questa accusa che due incensurati di Barletta, un 64enne ed un 51enne, sono stati bloccati dai carabinieri in una villetta privata incontrada a Tratturo Reggio. È accaduto l'altro pomeriggio quando i militari, durante un servizio di prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, hanno notato due uomini a girarsi con fare sospetto nei pressi di quella villa. I carabinieri quindi hanno intensificato i transiti nella zona e ad un certo punto hanno sorpreso i due uomini intenti a scavalcare la recinzione della villa. Alla vista della gazzella, i due ladri hanno provato a scappare ma sono stati immediatamente fermati. Dopo la perquisizione, i malfattori sono stati trovati in possesso di un piccone, una forbice da potatura e una sega, tutto sequestrato. Per i due ladri improvvisati, la procura della Repubblica di Trani ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Rito direttissimo.